buongiorno ragazzi abbiamo ottenuto queste due finiture vedete un po con la fascetta luxury liscia specchiata quest'altra qui intarsiata ok però se vedete l'effetto mo il verde e nero questo è stato fatto con un prodotto materico e lo stucco di florian decor guardate come è lucido a specchio guardate questa finitura mentre questa è stata fatta solo con il materico di florian decor quindi qua siamo più sul satinato e qua siamo sull'effetto lucido lucido prendi un po più da vicino per vedere la differenza spettacolare ok ragazzi e vi ricordo che a dicembre a breve metteremo le date quindi faremo il corso in romania e insegneremo anche queste tecniche va bene rispetto in tanti